Anime sono mie, l'ultimo respiro, sai che io, io colleziono anime, sì così! Wow! Ancora di più! Sì così! Allora, ecco il patto, tu mi dai la tua anima per da loro! No, non devi, non devi farlo! Va bene. Sul serio? Uh, affare fatto allora! Prima però, mi devi ridare i miei amici. Ah, non ti fidi della morte, eh? Non posso darti torto. Eccoli qua! E adesso, tornando alla tua anima... Sì, a proposito, non ce l'ho. Sono metà demone. Mi hai preso in giro? La cosa non mi fa né caldo né freddo. C'è sempre un prezzo quando tratti con la morte! Il prezzo per caso è gratis? Perché allora l'ho già pagato! Ci vediamo, bello! Corvina!